Siamo molto felici, signor Direttore Generale, di poter essere oggi qui a siglare questo accordo tecnico. Non è un caso che siamo in due perché vogliamo coprire con questo accordo tutta la filiera dalla produzione di mare, quindi dall'allevamento nel caso degli animali fino alla trasformazione e all'immissione nel mercato dei prodotti alimentari. Con quelle modalità che lei ha voluto ricordare di scambio di esperti, di formazione, di progetti anche di ricerca svolte insieme, certamente potremo camminare in un percorso che avete avviato per l'adeguamento della normativa comunitaria. I apprezzo in tutti i oblasti che avete già rappresentato, cioè in rilassati di rilassati, in obbacare, in progetti, in progetti, credo che possiamo apprezzo all'inizio per l'arco di rilassati per l'arco di rilassati normativi dell'Unione Europea. Oletto con piacere il commento della Commissione Europea sulla apertura del capitolo 12 del negoziato che è dato di un impegno che già si sta concretizzando in questo senso. Već, sa dovoljstvom, progettao izvještaje, upravo, Europske komisije o tome da se približava, znači, otvaranje poglavlja 12, odnosno, znači, da već u zajedničkim radom nešto i konkretizujemo. Se vorrete, e questo poi lo vedremo nella riunione, diciamo, tecnica, potremo certamente confidarvi le nostre esperienze, quelle che noi già abbiamo fatto nella predisposizione, ad esempio, del piano dei nazionali integrati, che è un obbligo che l'Unione Europea prevede, dei controlli. Ako, naravno, budete bili zainteresovani za to i kasni na tehničkom sastaku, možemo da razgovaramo o konkretnim stvarima, odnosno, onome što è, na primer, nacionalni integrisani plan, kontrole, što è, znači, ono što è obaveza prema Europsko Unione. Oppure, per la realizzazione di quella rete, di posti di frontiera, anche per i prodotti di origine vegetale, non solo di origine animali, che è un altro dei obbligi a cui bisognerà necessariamente andare in contro. E poi, altre normative più specifiche di settore, come quella per i Novel Food, che è cambiata proprio in questi ultimi mesi in sedia comunitaria. I o cittav niz, znači, drugih, da kažemo, odredbi, kao što è Novel Food, koja è, upravo, u skorje virime, potpuno promijenjena. Insomma, è tanti altri aspetti che potremo decidere insieme. Noi siamo pronti a aiutarvi e, ripeto, soprattutto a descrivervi quelle che sono state anche le nostre difficoltà, perché non è che i processi avvengono senza delle difficoltà. Dakle, mi smo vam na raspolaganju, spremni smo da vam pomognemo u onome što su vaše potrebe, isto tako i da vam prenesemo naše iskustva, jer i mi smo također imali poteškoće, znači, ni naš put nije prošao bez poteškoće. E, aspetti, abbiamo, ovviamente, i herabili, ma più presto in Italia, 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 ma più presto in Italia. Grazie.